good morning si qui sono le 11 e come dico in questi casi certo una mattina prestissimo mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente semplicemente david lynch it's june 2 2022 and it's a tour's day here in igles a clear morning in this moment i still right now 86 590 30 celsius this means that it's a today really 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 soft like this days in this video and also because it seems more summer climate and spring limit d'altra parte a qualche tra ventina di giorni e giusara giumia quindi anche normale questo sarà estate anche normale questo as riguarda il video tutti i don't know if I do it but if I do it in case it's always separate from this so in case you are interested eyes open anyway I see a new hole just see from the window you can't see anything because on these days and also almost all summer we open the curtain and show the green roller show because principalmente per fare aereggiare e quindi non potete trema nulla vi dirò solo io come atmosfera davvero si è l'atmosfera che innanzitutto di self return una thing that the temperature potrebbe ancora salire ma comunque vedremo non siamo mai dei maghi su questo but the really important thing with this atmosphere is that today we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful blue sky and golden sunshine and i think all along the way ovviamente qui all along the way sempre qualche riammino rispetto a voi intendo soprattutto gli amici americani perché sono diciamo abbiamo un orario completamente diverso come sapete sì proviamo di continuare con questo trend anche domani insomma già al mese di maggio abbiamo avuto quasi sempre lo spiutato in golden sunshine speriamo sia anche giugno così d'altra parte potrebbe essere così visto che giugno e l'estate comunque genere sempre più sulle rispetto alla pioggia al mino che ricordi a cose in generale anche per altre parti del mondo sì per cui siete di soffro da mythical wind with the orange red blue green water curtail via da me and it's green roller shooter near me in these days and almost all the summer and finally from a mythical keyboard amatic x 640 ipg 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 625 e voi great day in all the people follow the channel riporsi un saluto davvero a tutti and also I hope you will have great breakfast io lo farò tra poco io sono proprio pronto come sempre non so se lo sentite ma soprattutto spero possiate consolarvi ancora di più se il tempo ss brutto alle vostre parti non che non ci consoliamo sempre quando facciamo colazioni però però per quanto mi riguarda quando il tempo è brutto mi consola ancora di più e poi la cosa curiosa è che due parole consolazione colazione se dette in italiano fanno anche rima i'll see you in the video tools if I'll do it or tomorrow ciao